ma perché non avete prenotato cioè per domani però le informazioni che ci sono arrivate al Veltro sono state un po' forviante ambigue dove sono andati cittadini qua vero? si sono andati su ma vaffanculo figlio luce oh Veltro più dura del previsto ma è bello così dai ma al parco ci potete andare comunque però non fate il software com'è? eh bisogna dire come è il software?